Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il mio medico. Puntata ricchissima anche oggi di tanti argomenti molto importanti. Inizieremo oggi parlando di coliche renali, un dolore intenso paragonato addirittura ad un parto. Non vi dovete preoccupare perché qui con noi è tornato a trovarci il professor Stefano Arceri che ci dirà tutto, diciamo docente di chirurgia generale all'Università Sapienza di Roma che ci dirà tutto su come si diagnosticano le coliche renali e soprattutto come si curano. Prima di iniziare a parlare con il professore vi ricordo come fare ad entrare in contatto con noi. Lo vedete il numero di telefono in sovraimpressione 066508937, il nostro contatto è il mio medico.tv2000.it e poi lo sapete i nostri social sono aperti, scriveteci, contattateci attraverso Twitter, Facebook e Instagram. Iniziamo subito perché io ho detto che è un dolore talmente tanto forte, paragonato addirittura a un dolore di una persona che sta per partorire. Ma che cosa sono esattamente le coliche renali? Allora innanzitutto buongiorno Monica, buongiorno a tutti. La colica renale, noi purtroppo, noi medici, quando avviene la colica renale, che come giustamente hai detto è molto forte, è veramente uno dei dolori più acuti, può essere paragonato a un parto, no? Per cui chi ha avuto una colica renale sa bene di che cosa parliamo. Ecco, noi medici in quella fase purtroppo siamo contenti, tra virgolette, perché? Perché vuol dire che il paziente sta risolvendo il problema, perché la colica renale non è altro che un evento doloroso che avviene quando questo calcolo si sposta. Mi presti la pena? Allora io vi faccio vedere, vado verso il manichino, così vediamo cosa succede. Cioè questo è il rene, in questo caso il rene di destra, a questo livello che è il bacinetto, di solito qui vengono prodotti i calcoli, vediamo perché vengono prodotti, poi questi calcoli devono scendere lungo questo tubicino che si chiama uretere, arrivare in becica e poi venire espulsi. Durante questa migrazione dal basso verso l'alto, essendo molto sensibile questo tubicino che si chiama uretere, suscita un dolore intenso, intensissimo. Perché, professore, ci sono alcune persone che sono più a rischio rispetto ad altre, per quale motivo? Allora, innanzitutto c'è una predisposizione, quella è dovuta anche a delle piccole malformazioni, ma non è proprio così. Comunque c'è una piccola predisposizione a formare questi calcoli. Il motivo perché si formano ancora non è ben conosciuta, cioè noi non sappiamo quali sono i motivi. Quello che sappiamo è che c'è un agglomerato di sali minerali che si vanno a riunire a formare questi calcoli. Quello che dobbiamo sapere un po' tutti, Monica, è che ci sono tanti tipi di calcoli, cioè il calcolo non è soltanto uno e non è soltanto formato da alcune sostanze, alcuni sani minerali. E perché è importante sapere questa differenza? È fondamentale perché a seconda della conformazione chimica del calcolo dobbiamo seguire delle ristrettezze alimentari, dei regimi alimentari. Sono molto contento che dopo di me ci sarà un nutrizionista perché, lo dico subito, la calcolosi renale è una patologia che va seguita in modo importante, fondamentale, da un bravo nutrizionista perché dovrà fare una differenza del tipo di calcolo e in base al tipo di calcolo dare delle indicazioni. Però ci sono dei fatti di... C'è un alimento, Monica, sono sicuro che risponderai subito. C'è qualcosa che noi dobbiamo fare che va bene per tutti i calcoli. C'è un alimento che va bene per tutti i calcoli. Qualcosa che dobbiamo fare... L'acqua. L'acqua, ecco, vedete. Ho studiato, ho studiato... Come sempre. Io bevo tant'acqua. No, però io volevo sapere una cosa. Però ci sono dei fattori di rischio. Lei ha detto che non si sa ancora, no? Per quali modi ci sono soggetti... Però alcuni fattori di rischio... Assolutamente. Abbiamo fatto uno schema con i ragazzi della radiazione, per cui il sesso maschile, per esempio, è un fattore predisponente, almeno in quello i maschietti sono più predisposti. L'età giovanile, perché la calcolosi renale è una patologia del giovane, per cui 20-40 anni. Come avevamo detto, e Monica ha fatto proprio da maestra, è stata l'acqua. Non beviamo. Un paziente, un soggetto disidratato, che non carica comunque l'organismo di liquidi, è un soggetto più predisposto. E questi sono, diciamo, i fattori di rischio maggiori. Attenzione, però, che bere poi troppa acqua, perché l'eccesso, Monica, fa male in tutte le cose. Bere troppa acqua fa male, perché smette comunque il rene ad un iperlavoro, che questo non va bene. In linea di massima posso dare così degli esempi, se me lo permetti, semplici, come si fa a capire se si è disidratati o si è idratati bene. Esatto. Allora, per esempio, mingere delle urine troppo cariche, troppo scure, magari forti anche di odore, quello vuol dire che siamo un po' poco idratati. Ah. Urinare poco, chiaramente, è una caratteristica. Invece delle urine chiare, urinare almeno un paio di litri al giorno, ecco, quella è un'idratazione assolutamente... Un paio di litri? Un paio di litri, sì. Un litro e mezzo, due litri al giorno, guarda che è facile, ci si arriva. Stavo pensando a quante volte vado in bagno, per cui stavo facendo il conto su me stessa. Esatto. Me la stavo misurando da sola. No, poi sicuramente, essendo Monica una sportiva, dovrà idratarsi di più, perché consuma più acqua rispetto a una persona che magari fa una vita sedentaria. Certo. E che questo non va bene. Allora, anche in relazione a quello che si fa nella propria quotidianità, bisogna stabilire l'introito di liquidi. Parliamo di sintomi. Noi abbiamo parlato di dolore molto acuto, paragonato appunto a un dolore di un parto. Ci sono altri sintomi che ci fanno capire? Allora, i sintomi possono essere anche asintomatici, perché molte volte i calcoli passano, migrano dall'alto verso in basso, assolutamente non dando segno di sé. Per cui alla fine uno si accorge veramente del rumorino, del calcolino che casca, per cui è andata bene. Quando invece si sta preannunciando la colica renale, il fatto acuto, allora ci può essere una volontà, una necessità di andare a urinare troppo spesso. Se ci si va a urinare anche 10-15 volte al giorno, magari poco. Bruciore durante la minzione. Addirittura si può essere la piccola perdita di quantità di sangue. I sintomi della cistite però sembrano. Esatto, però bisogna vedere e fare le lezioni. È il dolore quello che ci dà un po' la sensazione se è una colica renale. Di solito il dolore è posteriore, il lombare è un dolore molto forte e questo dolore poi tende a passare avanti. Avete visto quando vi ho fatto vedere l'uretere? Perché l'uretere poi scende avanti e va verso il basso. Questo dolore ha proprio questa irradiazione, cioè da posteriore va anteriormente, scende verso linguine e nell'uomo va verso il testicolo e nella donna verso la vagina. Per cui è un dolore che ha questo tipo di migrazione. Per favorire l'espulsione di questo benedetto calcolo si ricorre ad un metodo, il cosiddetto colpo d'acqua. È così? Sì, il metodo del colpo d'acqua è assolutamente utile. Ma che cos'è esattamente? Il colpo d'acqua è assumere, Monica, in un tempo molto breve, un litro, un litro e mezzo d'acqua, magari la mattina, per cui per dare questa spinta idropinica, cioè una terapia idropinica, dare la spinta a questo calcolo che può migrare e scendere verso il basso e verso la vescica. Considera, Monica, che c'è stato uno studio americano di tanto tempo fa che stabilì che le montagne russe erano terapeutiche per i calcoli del Rene. Per cui questi movimenti delle montagne russe, le giostre, le cosiddette Luna Park, era terapeutico. fecero gli americani un lavoro del genere. Per cui assolutamente, oltre a bere, mi raccomando, stare in piedi, camminare, uscire. Io mi rendo conto che è un dolore veramente acuto, per cui si stende a rimanere a letto, a rannicchiarsi, ad avere una posizione cosiddetta antalgica. Però il movimento, Monica, è importante. assolutamente. Oltre all'acqua ci sono anche altre bevande che possiamo... Monica... Perché magari ci sono tante persone, soprattutto gli anziani, che non amano molto il sapore. Bevete tutto quello che volete. Bevete le tisane, bevete l'acqua oligominerale, non troppo gasata, bevete... Evitiamo tè, evitiamo caffè, perché per certi... Caffeine e teina non aiutano. Esatto, per certi tipi di calcoli il tè e il caffè non vanno proprio bene. Questi dovremmo evitarli. Come si fa la diagnosi? La diagnosi è anamnestica. Bisogna andare dal medico quando si ha questi dolori e il medico già con una visita particolare si rende conto se ci sono dei punti dolenti che fanno pensare che ci sia un calcolo che sta migrando. Poi un esame, una radiografia diretta dell'addome, c'è in piedi una radiografia semplice dell'addome nei calcoli radiopachi ce li fa vedere per cui la diagnosi è fatta. Nei casi dubbi o quando non siamo proprio tranquilli al 100% un'ecografia è assolutamente ben accetta. Un'ecografia addominale. Allora, parliamo di prevenzione. Per prevenire questi calcoli che sicuramente non sono piacevoli come dobbiamo comportarci? Ho detto che l'alimentazione è importante. Allora, l'alimentazione è fondamentale. Bisogna mangiare tutto. Non bisogna eliminare per esempio c'è l'ipotesi di non mangiare formaggi perché sono pieni di calcio. Non è affatto vero. Addirittura i caseari i formaggi caseari molte volte proteggono dalla formazione di alcuni tipi di calcoli. Bisogna mangiare un po' tutto con moderazione. Eliminare chiaramente i cibi grassi insaccati tutto quello che non va bene e eliminare l'introito di vitamina D troppa vitamina D quello assolutamente fa male. Penso alle tante donne con l'osteoperosi e via dicendo. Quello bisogna stare attenti. Deve essere un bravo medico un bravo nutrizionista che segua questo paziente. Ci sono delle verdure Monica mi viene in mente gli spinaci mi vengono in mente barbabietole ce ne sono tanti asparagi che non vanno bene per certi tipi di calcoli per cui se si ha una e questo ci tengo a dirlo perché è importante una colica renale si espelle il calcolo cercate di recuperarlo facciamolo esaminare perché l'esame chimico di quel calcolo ci dirà e ci darà delle informazioni talmente importanti per sapere come ci dobbiamo comportare e per evitare anche delle recidive. Assolutamente. Grazie a te Monica. Buona giornata.